Stagione Balneare 2015 avviata con successo, a dirlo sono i gestori degli stabilimenti che affrontano il mercato turistico offrendo più servizi e avvicinandosi alle esigenze di un pubblico che deve far coincidere necessità con bisogno di vacanze. La strategia diventa di gruppo e i primi risultati fanno ben sperare. Abbiamo cercato di coinvolgere non soltanto le strutture balneare ma tutte le strutture ricettive. Bed and breakfast, alberghi e anche quelle strutture che diciamo gli affitti, le case affitti casa. Che cosa ci siamo messi insieme per ragionare e trovare delle soluzioni? Ci sono diversi lidi che si sono collegati offrendo al turista che viene, ospitalità gratis presso lo stabilimento balneare a condizione che comunque rimane a pranzo e gusta le specie da nostre. Unirsi senza guardare al campanilismo, calmirare i prezzi e non tagliare i servizi. Al contrario, se possibile, ampliare la scelta senza dover scegliere tra più opzioni. I turisti scelgono strutture ricettive meno costose per permettersi più possibilità e così si creano pacchetti pensati per soddisfare tutte le esigenze. Quest'anno non abbiamo aumentato i prezzi, questa è la carta vincente. Abbiamo lasciato i prezzi invariati sperando che ci possa essere una ripresa e noi ci auguriamo che sicuramente ci sarà una ripresa, però vorremmo lanciare anche un'idea. Non è sufficiente soltanto il nostro sforzo, ma abbiamo bisogno anche da livello regione che ci sia più valorizzazione nel nostro territorio. Il primo ponte estivo registra il pienone, il tempo è clemente, il comparto turistico dimostra un tanto atteso ottimismo.